Ben ragazzi sono Marte e oggi sono qui con voi su Call of Duty Advanced Warfare però questa volta in un gun game mi avete chiesto per il motivo per il quale non facessi video sui vecchi code visto che ho detto che mi piacciono più quelli purtroppo ho venduto l'Xbox perciò non sarebbe, non dico stupido comprare adesso però non mi sembro una gran genialata perciò non lo farò la partita è iniziata da poco, stranamente perciò potremmo quasi farcela dico potremmo perché al di là di quando è iniziata la partita io purtroppo faccio cacare tanto sono andato a dar la kill pure a quello che mi stava battendo perciò adesso ha vinto, lui ha finito già lui ha già finito la partita guarda dove stai ma non ti vergogni di vivere ma non provi a suicidarti mi arriva uno da dietro in 3, 2, 1 no stranamente ecco grande questo è a 7-0 ma dai è ok che faccio cagare però che cazzo sei dai ma vaffanculo saltano, saltano ma che cazzo te sai sempre è stato uno là ma non c'è ma dai ma dai ma dai ma che mira c'ho ma davvero non era morto da da matto che schifo so che sei qui a tre colpi a tre colpi perché è giusto così perché se non lo prendo nel culo io il gioco non è contento no 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 si vabbè vaffanculo ci sta tutte e due tutti e due le ha ammazzate oh che cazzo no il fucile a pompa no c'è hit marker col fucile a pompa hit marker dai parliamone sono le tre di notte quindi i miei riflessi sono peggio del solito come sei simpatico ma che cazzo di arma c'ho che cazzo è sta roba le le mimiche hanno no no ah ah madonna mia madonna mia mi prendi per il gu cioè ditemi che è uno scherzo lo accetterei ma se non è uno scherzo cioè se non è uno scherzo non va mica bene ma che cazzo spara sta roba il cecchino c'ho il cecchino pamash pamash col cazzo col cazzo due volte muori no la pistola la pistola è una tragedia ragazzi e invece ce la fa con la pistola no 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 eh sì eh sì questo laggando evita i proiettili questo robo che cazzo ma era un cecchino oh su all'ultima trickshot no non l'ho preso l'ho preso l'ho preso sì sì dai raga siamo riusciti a vincere non mi chiedete come cioè non mi chiedete come perché faccio cacare in detto eh però abbiamo vinto quello conta perciò ditemi se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento e un piace 25 17 o faz che potecci e vi ricordo quindi che tutti i miei link sono giù in descrizione lasciatemi magari dei video cioè dei possibili video da fare per tutti quelli che mi chiedono League of Legends ragazzi ci ho provato non riesco a parlare mentre gioco a lol è complicato devo farlo per forza con faz o con mollu ok cioè qualcuno che ci gioca perché da solo non ce la faccio cioè non mi viene proprio da parlare comunque ragazzi il video è finito io vi saluto un bacione ciao